Sono Dario Scotti, sono il presidente di questa azienda, ho 57 anni e lavoro in azienda da 34, ho finito gli studi. Mi considero uno Scotti al servizio dell'azienda, di questa azienda nata nel 1860, quindi più di 150 anni fa, sono la quinta generazione, ma c'è già la sesta in azienda con due mie figlie impegnate e operative al 100%. Questa azienda ha una storia vecchia, ma cerca di fare patrimonio, capitale del suo passato, per guardare al futuro in modo flessibile, con grande innovazione e con grande entusiasmo. Questa azienda è frutto del lavoro di tante persone, è il lavoro di impegno di tante persone di oggi e negli anni, ed è un'azienda che secondo me costituisce veramente un pezzo di storia, di valore del sistema agroindustriale italiano. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.